Amiche ed amici della KinoBizball Productions, benvenuti alla puntata dell'11 dicembre 2019 del Commodore 64 Advent Show. L'11 dicembre del 2008, 11 anni fa, ci lascia Fukio Mitsushi, il game designer di Bubble Bobble, Rainbow Islands e tanti altri giochi, Cypherion, Halley's Comet, Super Dead Heat, Poppins, magari meno noti ma che sono sempre delle lezioni di game design. Come lo celebriamo anche quest'anno, come abbiamo fatto un anno fa e due anni fa, lo celebriamo in questa giornata, che è appunto l'anniversario della sua morte, lo celebriamo con un gioco, una conversione di un suo gioco per Commodore 64. Abbiamo giocato Bubble Bobble, abbiamo giocato Rainbow Islands, questa volta giochiamo un gioco di quelli minori, di quelli un po' più oscuri, ma comunque in realtà è importante in quanto, come vedrete, è un gioco, il terzo episodio di una saga classica e famosissima, vista su tantissimi formati. Quindi, omaggio a Fukio Mitsushi, a cui dedichiamo questa puntata, e presto la Kenobi Sports Productions dedicherà anche un libretto a Fukio Mitsushi, ne saprete di più molto presto, ma per ora sigla! Dicevamo, un gioco minore rispetto ai mastodontici Bubble Bobble e Rainbow Islands di Fukio Mitsushi, appartenente a una saga classica di Taito. Che cos'è? Bando le ciance, tanto probabilmente non lo conoscete. Eccolo qui, è Wolfie. Wolfie V, che io continuo a leggere Wolfie D, perché sono un citrullo. Ma tra l'altro qua vedo scritto Wolfie D, quindi adesso scopriremo come si chiama, perché anche io continuo da vent'anni, da trent'anni in realtà, a confondere quella lettera finale, grazie a questo logo bellissimo, ma anche di difficile lettura. Che cos'è? Che cos'è? Beh, è il terzo capitolo della saga ufficiale di Quicks, o meglio di Kicks, come dicono gli americani, quindi il classico gioco a strato, a riempimento di aree, che appunto nella sua saga è Kicks, primo episodio, Super Kicks, secondo episodio dell'87 sviluppato da Kaneko, e poi il terzo episodio, Wolfie. Andiamo a vedere di che si tratta. Vuoi vita infinite, non vita infinite? Un'altra bella release della Remember, Bug Fixed tra l'altro, insomma hanno fixato parecchi bug, no? Cosa voglio? Voglio resettare la score. Vediamo un po'. Wolfie, bellissimo, bellissimo, logo ben riprodotto, l'avete visto, avete visto il font Arcade Classic che Taito ha usato in lungo e in largo, ben riprodotto su Commodore 64, 1989, quindi trent'anni fa. Proviamolo. Introduzione all'Arkanoid e si va. Ed è ovviamente Kicks, quindi conoscete come si gioca, ma con i suoi bei power up e con questa atmosfera fantascientifica. Il gioco è molto semplice, nel suo dipararsi, ma ci sono alcune novità interessanti, a parte il fatto che in realtà è un gioco che ha un sacco di segreti, un sacco di segreti che io non conosco, tutti legati a modi diversi di finire il livello. Modi diversi vuol dire percentuali diversi, ma anche playstyle differenti, perché Fuku Mitsushi nei suoi giochi ha sempre avuto l'ardire di inserire dei morire. Vedete che c'è uno shield. Daaaah, mi si è incastrato il joystick, è colpa del joystick. Potevano metterci una musichetta, questi qua della conversione, che a cura della Empire, se non mi sbaglio, grandi fan di Taito, ho preso intanto una serie di power up bellissimi, l'astronave si incastra, il mio scopo, come sapete, è fare una percentuale variabile dello schermo. Mi sembra che sia in questo il 75%, ma adesso andremo a vedere quando avrò fatto una certa percentuale. Sto giocando col culo, veramente, ma adesso cercherò di migliorare. Una cosa interessante è che... Cosa sono quegli aggeggiati? Si sono incastrati nel muro e io li distruggo così, faccio anche mille punti, e poi chiudo così la partita. No, bisogna fare più di 75%, non è come il vecchio Quix. Probabilmente devo fare 80? Devo fare almeno 80, quindi lo finisco un po' pigeramente. Ricevo un bonus, vediamo un po', di niente, di 100.000 punti. È un calcio in culo. Vedete che il punteggio è super ampio, un sacco di digits, quindi stavolta però non andrà come l'altra volta. Notate che quando la mia linea viene colpita, la mia linea che traccio viene colpita dai nemici piccoli, in realtà non muoio, ma semplicemente una linea di fuoco comincia a inseguire il mio amato oggettino, come si chiama? L'oggettino, l'oggettino... Eh, no, eh no, eh no. Eh, mi sono scomparsi il poverà, però. Birichini, guardate che bello, con questo effetto basso rilievo, che con il blu del Commodore veniva bene. L'arcade, perché è un gioco d'arcade in origine, è un po' più colorato, però devo dire che questa versione è molto, molto curata. E io non so giocare... So giocare bene a Super Kicks, ma in realtà Wolfie non l'ho mai giocato più di tonto. Tac, chiudo qua, e non basta, sono a 73, adesso c'è la parte di merda in cui hai pochissimo spazio per operare e devi scavare fuori una percentuale decente. Mamma mia, quanto rischiato stavolta. Un gioco indulgente, a suo modo, rispetto ad altri della serie. Una fun fact, il celebrismo Gull's Panic, che tutti voi avrete giocato, quello che donne in nudo che si spogliano quando fate i riquadri, è in realtà sviluppato da Caneco. Caneco è la stessa che ha sviluppato Super Kicks, quindi Gull's Panic, che potrebbe sembrare una versione, come dire, apocrifa di Quicks, è uno spin-off molto, molto vicino alla serie principale. Oltre a essere un ottimo gioco in termini di gameplay, tanto che, per qualche ragione buffa della vita, ho Gull's Panic 1, 2 e 3 in scheda PCB originale. Pensate che vita buffa. No, morire così. Potevo fare una curvetta e salvarmi, no? Potevo. Ah, vedi però... Dai, calma, calma, calma il gesso. Non c'è? Concentration. Mi dispiace che, purtroppo, non conoscendo i trucchetti del gioco, non posso fare quello che a Fukuyo Mitsugi veniva meglio, cioè riempire i giochi di segreti misteriosi ed esoterici, che in parte c'erano anche sicuramente nella versione Commodore, perché nel manuale venivano riportati queste special condition per finire il livello, quindi che davano dei secret bonus di ogni tipo. Quindi, se siete esperti di Wolfed, parliamone, perché mi piacerebbe saperne di più. Fukuyo Mitsugi, aveva curato, ricordiamo il suo nome di battaglia, MTJ, che era il suo acronimo di videogiochi in cui si scrivono i nomi di tre cifre, Fukuyo Mitsugi è stato il game designer, ma anche era un graphic designer, lui aveva fatto la Tama University, che è una scuola d'arte di Tokyo, e quindi aveva curato sia il design dei nemici, sia il game design, quindi le regole del gioco, il modo in cui questo refresh di quelle che sono le regole di Kix. Ovviamente non sto giocando male, dopo faccio una partita bella ragazzi, perché questa è proprio una partita fatta col culo, sempre a 80 risicatissime. Zen, meditativo, Kix, una mano, una mano amica, un gioco meditativo e ci piace così, ci piace un gioco calmo, anche senza musica, con delle mani che fanno ciao ciao, bizzarro, sembra molto meglio avere una ghiera a quattro direzioni, perché il gioco va e a quattro direzioni in sala giochi, quindi invece a otto ogni tanto lo stick un po' si impalla, sto giocando su un bel tubo catodico e finalmente sto giocando a 50 fotogrammi, cioè io stavo già giocando a 50 fotogrammi in secondo su tubo catodico, ma anche voi che vedete il Commodore 64 su, grazie all'internet, sul vostro pc, vedete l'immagine fluida come dovrebbe essere, devo prendere uno speed up perché sono lento come la M, rischio, rischio e vinco, sconfigo un altro nemico, osserva velo, il trucco in realtà è sempre quello, incastrare in un punto, in un quarto di schermo, il nemico grande e lavorare di cesello e non fare così che sembra la strategia del cretino di Quix, cioè che stringe un po' a random e finisce che alla fine si ritrova tutti i nemici come sto facendo io nella stessa area strettissima, quindi poteva andare pianissimo per evitare la morte. Questo mi spara pure, allora però, dillo, dillo se è un po' un CCC, un Cococò, il Cococò, ve li ricordate? C'è uno scudo che sta andando via, io non lo voglio, no dai, scema, 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 volevo prendere quello, no? Magari è una, un 200, un 200, vabbè, 200.000 punti, spero che, quanto ho? 78, manca il 2% non morire così e ce la fa con 80.5, ancora una volta, ma devo dire che è molto pulito, io un po', quando lo vedi in sala giochi, all'epoca lo snobbai perché non mi piaceva tanto questa atmosfera fantascientifica, io preferivo la stupidità di Super Kicks oppure la astrazione assoluta di quella meraviglia che è il primissimo Kicks o Quicks che era un gioco americano tra l'altro di Taito ma Taito of America vediamo se wow, se io se ne andassi magari, sarebbe stato bello incastrarlo da sta parte qua eh, questa cosa che appaiono e scompaiono così mi dà un fastidio ecco, sono riapparsi, sono riapparsi e vado a prendermene uno subito, questo, 100 punti, vaffan cuore, 100 punti non mi sarebbe se incanta perché mi se incanta il joystick, devo tenerlo perpendicolare se non mi confondo potrei chiuderlo ma non voglio voglio che lui si incastrirà vedete come sapidamente ecco, questa this is the strategy piccole quanto sarebbe bello fare il Super Quicks per Comodoro 64 io mi ci metto se volete fare la musica no no musica un po' cacofonica un po' riduttiva rispetto a quello che si poteva fare però bello bello quanto è che giochiamo 11 minuti vi secca se me ne faccio un'altra potete anche chiudere voi io però me ne faccio un'altra cercando di essere un po' più calcolatore così un suplesso è bello ricordare Fukumitsuji semplicemente giocando un suo gioco senza strapparsi i capelli in fondo come penso di dire ogni anno quando ricordo Fukumitsuji perché amo ripetermi su questo ma cosa c'è di più bello per un game designer di essere ricordato tramite i giochi BAM ad ecco il paccio 4 bonus e ucciso tutti i nemici e adesso sono anche forse tipo invulnerabile perché lampeggio che sono bello invulnerabile bello mi si è incastrato il joystick no vediamo se riesco a fare il colpaccio tu vai un po' di là non vuoi guardi qua non vuoi sei un po' se ti muovi un po' orizzontale ciccio guarda tu scegli la tua orizzontalità e non mi scassavo cazzo ecco adesso dove vai e adesso si adesso si che ci divertiamo forse ti stai incastrando male ti stai incastrando male ti stai incastrando male e sarà molto difficile per te andare a fan silenzio torna lì non torna lì eh no no scusate sono andato in tilt primo stage no no così no così così ma 85 tutto sto cazzo cazzo io non sono di Milano cioè tengo a precisare questi moti milanesi sono un po' inesplicabili vai è così brutale ma no così brutale no 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 cucù 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 p poo recuito come fa aborto lotto ok facciamolo bene anche su uno stage ma bene sono tutti power up fanno cose divertenti tra l'altro non ti fino a starare così però mi serve se l'altro giorno con trekking film secondo me ha rotto joystick vecchia scusa doppio rage quit idea fermi idea 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 questo è un gioco di precisione un gioco a 4 direzioni ma cosa sto giocando con un joystick quando posso usare il fantastico pad del super famico con l'adattatore msx che non c'entra niente ma che piace ai giovani proviamo proviamo a vedere come è giocato così con il pad tanto più che il gioco ricordiamolo è uscito anche su pc engine che aveva una croce direzionale quindi proviamo 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 adesso si adesso si adesso adesso prendo la p e con la p che fa non lo so con questi che fa p ancora p vabbè in realtà il fatto che in taluni in taluni frangenti tanto non sarei sta scemo resta scemo fukio fukio perdonami c ci è tipo che sono invulnerabile ciao ci è ciao ma non è ancora finita it ain't over till it's over chissà perché l'empire senti il bisogno di fare la conversione di questo gioco non è esattamente il gioco che diresti mo facci la conversione oh che veloce stavo per chiuderlo antipatico 89% un buono più interessante però ho fatto cagare comunque un high score di 417000 non riuscivo a battere neanche me stesso probabilmente how humiliating mi sono pure perso il bonus che è scomparso in quel momento che antipatico non spadire dammi il bonus ma non 200 io voglio voglio lo speed up voglio una cosa che mi renda più performante così come rifare qui lui l'ha rifatto così no ma guarda che mira che ho avuto proprio andare sul proiettile adesso ti chiudo così ciao non è ancora finita oh sta roba che non finisce a 75 mi turba si si spara spara un po' tua zia tac and now almeno se riesco a battere me stesso dubito fortemente musica che mi sognerò stanotte proprio provatelo se non avete mai provato su comodoro anche provatelo in sala giochi in sala giochi provatelo sul meme ah la speed up si che mi gusta ah come mi gusta lo speed up come ti speed up tac e mi scompare il bonus a fugio però mi sappia per culo senza musica con una musica tipo team folling sarebbe stata una bomba questo tra l'altro c'è anche quicks per comodo 64 che ha una musica o ha dei jingle comunque carini mi sembra o di team o di geo folling due musicisti eccelleri guarda che ti ho preparato una trappola coi fiocchetti amico e tu ci devi cadere dentro capito proprio malissimo puoi anche sparare se vuoi puoi fare il fico ma io ti ho già vinto praticamente e adesso posso andare a fare lo stupido tipo uccidere tutti i tuoi amici facendo 8 miliapunti combos come se proprio piovesse questo poveretto qua tutto ingastrato qua io adesso lo taglio così capito ciao si parla di record si parla di record Cioè così ti ho fatto mezzo milione di punti Eh, una roba E' tutto verde, c'è la manina che saluta Ti saluto con l'altra mano appunto Un grande classico Dammi speed up Ma no P, non so neanche cosa fa tra l'altro Quindi qua devo sperare No, no, uno speed up ci vuole qua Che acida sta palette non era così acido in sala giochi non era così acido era più normale nel suo essere sci-fi ma è comodo avere questi verdi e questi marroni che facciano queste palette brutalistiche qualsiasi cosa voglia dire io sono famoso per un uso completamente improprio del termine brutalista quindi non me ne vogliate lo so so cos'è l'architettura I wanna believe guarda come ti believe ti believe in faccia e qua però siamo in the situation qua siamo in the situation perché mi sono distratto mi sono distratto mi sono sbagliato mamma mia a risicare qua piccole percentuali mentre il mondo mi crolla mentre tutti i miei sogni crollano ai 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 il power up appare lì è un posto de m è un posto de m te lo dico io qua se cosa dovrebbe fare dovrebbe dividere coraggiosamente a metà tutto guarda dove è andato a stare lo chiudo lo chiudo lo chiudo si 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 ah satisfaction di Quicks dall'astratto al si 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 e bagnere sfonda la score 770.000 punti nuovo stage tutto grigio no in realtà ce l'ho arrivato anche prima ma con un punteggio risibile mentre mentre qua si parla di ah 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 punteggi importanti grazie a chiusure violente dello stage se riuscissi a chiuderlo bene adesso ci sarebbe da ridere signori cari uh la la questi che lampeggiano che diventano bloccanti no? questi cubetti sono si power up ma te bloccano pure e poi scompaiono e e e e e vaffan cuore dai che mi sei incastrato mi sei incastrato mi sei incastrato anche lui si era un po' incastrato eh però era interessante riuscire dammi uno speed ma no speed devi darmi no speed no no sta roba che non mi serve a niente vabbè ormai ho chiuso qua questo è inutile menarsela non andrà mai di là no? tac troppo tardi cioè troppo presto dove lo posso incastrare? lassù immagino che nessuno nessuno più stia guardando questo filmato ma è comprensibile ragazzi eh non è che non vi giudico per questo sono io e fucchio down by the school yard un dialogo con il game designer fatto tutto giocando il suo gioco questa è la magie della monas vattene su vattene da qualche parte non stare qua non basta 70 schifo 70 ed è pieno di palline da tennis maledette no no vai si vede che si giocava meglio col joystick posso dire questa cosa un po' buffa il tanto vituferato stick è una figata tra l'altro c'è anche un tempo limitato che piano piano se ne va o tempo se ne va come cantavano i squallure sono stato stronzissimo ma proprio stronzissimo e il tempo non me lo tornerà anche 75 vai 80 dimmela si 777 infatti che porta fortuna lucky seven e sono un'altra sbagolata di punti sarebbe bello aver vinto una vita ma non sarà così non è così e invece siamo nel mondo viola con gente incazzata subito tre power up qua per me neanche uno speed up perché sono il figlio dell'asciugamano secondo loro dai dammi di qua e speed up una s bene speed up violento e via così via così chi troppo vuole nulla stringe va bene va bene va bene battlefield una roba una roba una roba una roba ragazzi ricordiamolo così anche così Fukumitsuji certo è più facile ricordarlo giocando a cose meno ossiche meno surreali fantascientifiche astratte quindi non kicks nella sua versione qui presente ma in un bel bubble bob e andate a giocarlo ricordatevi giocando ammirando l'eleganza delle regole di game design del loro bilanciamento perché questo che ha reso grande bubble bubble è rainbow islands e celebratelo così giocando senza stare a flagellarci anche perché in fondo lui veramente continua a vivere nei suoi giochi continua a vivere nella bellezza assoluta di bubble bubble basterebbe quello da solo per dire wow quest'uomo sapeva a fare i videogiochi fukio mitsugi era un grande qualcuno ha detto che un uomo nella vita ha al massimo una due grandi idee beh respect per le tue fukio e noi ci vediamo domani non so con cosa ma improvviseremo un abbraccio un bacio e lasciamo alle risate di una bambina la più dolce il più dolce dei saluti per fukio mitsugi un abbraccio col codo sixtifluoro adbraccio cos'è ridi? fa ridere ma perché? col modoro basta stop cos'è rideremo un abbraccio un abbraccio un abbraccio sixtifluoro e di un abbraccio cos'è rideremo un abbraccio uomo cos'è rideremo un abbraccio